Sono con te, Walker, e mi sento alla grande. Modalità attesa, attivata. Grazie a tutti. 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 Scansione di sicurezza completata. Benvenuti nell'arc. 415B. Grazie a tutti. 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 Un meteorite. Eccomi qua, Ranger! A tutta casa! 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 A posto! Nessun rimborso! A tutta casa! 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 A eight divisions! A tutta casa! A tutta casa! Modalità attesa, attivata. Accidazione dei sistemi. Buona fortuna! Attivazione dei sistemi. Modalità attesa. Attivata. Attivazione dei sistemi. Il cielo ti favorisce essere repellente. Attivazione dei sistemi. 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 Attivazioni dei sistemi. No, 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 no. Torna presto, Walker. Torna presto, Walker. Torna presto, Walker.